Benvenuti a tutti e a tutte i giornalisti che sono qui presenti a questa conferenza stampa la prima del Sinodo 2014 dal titolo Il Sinodo tra crisi, guerre e speranza. Salutiamo gli ascoltatori di Radio Beckwith e di Radio Voce della Speranza e quest'anno siamo anche in collegamento streaming video sul sito rbe.it. Ecco qui ho due ospiti, il primo che introduco è il pastore Giuseppe, detto Zizi si può dire, Giuseppe Patone che è il relatore della commissione d'esame, la commissione che analizza e poi relaziona il Sinodo su quello che è l'operato della tavola valdese, del comitato permanente Opcemi e anche della facoltà valdese di teologia. E poi abbiamo con noi anche il pastore Massimo Aquilante che è il presidente della federazione delle chiese evangeliche in Italia. Bene, io comincerei con il pastore Platone. vorrei che ci esponesse così in breve flash quelli che sono i temi principali che tratterà, che ha iniziato già a trattare questo Sinodo e poi le motivazioni che hanno spinto la commissione d'esame in particolare a scegliere le priorità, diciamo così, l'ordine con cui questi temi sono stati presentati all'assemblea sinodale. Ma vi ringrazio di questo invito, la commissione d'esame che ha lavorato un mese prima dell'inizio del Sinodo, esaminando le carte, i documenti, ha deciso, ha pensato di iniziare la propria narrativa, la propria analisi, che deve essere contenuta in una trentina di pagine, quindi bisogna cogliere i nodi fondamentali, di parlare non subito della nostra chiesa e dei suoi problemi, ma dell'Italia, della crisi italiana in cui stiamo scivolando sempre di più al di là di parole positive che il governo lancia, i numeri però vanno in un'altra direzione, sono i numeri dell'Istat, sono i numeri della crisi giovanile, dell'emigrazione di giovani molto ben preparati, anche super laureati, che lasciano il nostro paese. Abbiamo chiesto al sociologo Michele Rostand dell'Università di Paria di darci dei dati per non fare discorsi fumo. È una crisi che non è ancora finita, che dura da troppo tempo, che ci sta portando sul terreno dello scetticismo, del negativismo e poi naturalmente non si può entrare in questa materia senza vedere al quadro internazionale, diciamo, delle guerre in atto. Il Papa ha detto un'espressione che io condivido, siamo dentro la terza guerra mondiale, proprio nell'anno centenario della grande guerra, se tu sommi Gaza, Iraq, Ucraina, Libia, eccetera, viene fuori uno scenario dove l'integralismo omicida, che piega la religione, che strumentalizza la teologia e i testi sacri, per questo diremo anche nel corso di queste giornate appena iniziata, che urge, urge moltissimo, non solo il dialogo ecumenico, che spesso è salottiero e fino a se stesso, ma occorre allargarsi al dialogo interreligioso, costituire dei luoghi fisici di confronto per sapere tu di che religione sei, se è una religione della mano armata. Noi veniamo da un'esperienza in Europa di grande violenza, sangue, eccetera, e quindi ecco tutto questo. Poi parliamo anche di noi. Ma sì, in fondo siamo qui anche per questo, ma non solo per questo, perché quando si parla del nuovo sguardo, noi sosteniamo che il nuovo sguardo di cui parla la tavola è dettato dall'agenda della società, non è che un'intuizione profetica è nata al tavolo della tavola, è perché le condizioni impongono di organizzarsi in un modo nuovo, come Chiesa, se è vero che le nostre Chiese sono ancora dei luoghi dove si resiste al male, allo scetticismo, se sono dei luoghi di speranza, cui il Signore stesso ci chiama. Questo è un po' il motivo per il quale noi abbiamo posto come primo punto della giornata, e sono emozionatissimo di aver visto che il voto è andato molto bene, la votazione è un'assemblea che ha discusso e ha votato con forza il progetto di cui magari parlerà il Presidente, visto che l'ha ideato insieme alla tavola, ma insomma, questo, però non usciamo da qui, da questo sino, dimenticando che siamo dentro una crisi in cui noi o abbiamo da dire qualcosa, se abbiamo da dirlo, lo diciamo adesso e concludo dicendo che io credo che siamo in un redderazione, cioè siamo alla resa dei conti. Qui si vede perché si tratta di soldi, si tratta di lavoro, si tratta di economia, per cui il secondo tema è quello dei giovani, che qui non abbiamo un modo di trattare, ma che noi vogliamo privilegiare è la questione dei giovani, della prospettiva, del lavoro, dei dati oggettivi. Quindi ecco, una Chiesa che guarda la realtà nazionale ed internazionale, che si interroga su questo e che vuole trovare gli strumenti per affrontare tutto lo scenario che ci circonda, e allora appunto uno degli strumenti è stato evocato con questo atto che è stato già approvato all'unanimità tra l'altro, e quindi questo ci rende ancora più felici, un atto che cita, riguarda, parla di quella che è la situazione dei migranti e di queste tante morti, purtroppo che si sono verificate in questi ormai anni, quasi decenni o quasi, morti nel Mediterraneo, di come affrontare tutto questo. E le Chiese è quello che possono fare, quindi non soltanto la Chiesa metodista e valdese, ma lo scenario si allarga anche ad altre Chiese. E quindi allora il pastore Massimo Aquilante ci illustrerà come la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha pensato di affrontare questo tema. Grazie, buongiorno. Sì, innanzitutto io vorrei esprimere un ringraziamento forte al Sinodo, appunto perché poco tempo fa, insomma, questa mattina, ha approvato un bello ordine del giorno predisposto dalla Commissione d'esame di sostegno vero, concreto, sentito, a questo nuovo progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche che abbiamo denominato Mediterranean Hope, speranza mediterranea, insomma. E allora brevemente dico come nasce questo progetto e come si articola, quindi come funzionerà. Allora, nasce non a tavolino, ecco, non è il risultato di un, come dire, lungo cammino di approfondimento, di analisi, di valutazione delle risorse, eccetera, eccetera, ma nasce proprio sull'onda dell'emozione, praticamente all'indomani della tragedia del 3 ottobre 2013 in cui persero la vita quasi 400 persone, al ridosso delle sponde di Lampedusa. Il Comitato Generale della Federazione era riunito e naturalmente pregò. E poi però dovete prendere atto che con gli strumenti che attualmente la Federazione ha non era possibile fare nessun intervento concreto. Ma da lì abbiamo cominciato a ragionare su questa cosa e poi grazie al sostegno dell'8x1000 gestito dalla Tavola Valdese è stato possibile lanciare questo nuovo progetto. Quindi la prima dimensione del progetto che non andrà persa anche quando poi con passare dei mesi si strutturerà meglio è proprio questo slancio vocazionale. Cioè non stiamo mettendo in piedi un'impresa che poi diventa istituzione e resta lì quasi, diciamo, esclusivo di chi vi lavora o delle persone a cui si rivolge ma stiamo mettendo in piedi un'impresa che invece mantiene sempre forte l'appello a chiunque voglia in qualche modo dare parte della sua vita per costruire qualcosa di giusto, come diceva Martin Luther King. Quindi questo è il primo punto fermo e non va mai dimenticato. Come si articola? Sostanzialmente in due percorsi di lavoro. Il primo l'abbiamo chiamato osservatorio politico ed è a Lampedusa. Il secondo percorso è forse più tradizionale ma per le nostre chiese non tanto ed è un centro di prima accoglienza a Scicli nella Sicilia sudorientale dove da moltissimi decenni lavora e opera una chiesa metodista. Allora, l'osservatorio di Lampedusa Lampedusa è chiaro, è un simbolo quindi consente di narrare la questione dell'immigrazione da tanti punti di vista innanzitutto dal punto di vista umano le storie le storie però le storie dei rifugiati le storie dei migranti le storie di chi arriva con mezzi di fortuna ma anche le storie dei Lampedusani che accolgono insomma ma soprattutto il senso diciamo di questo osservatorio è poi di dare un'informazione che sia obiettiva da un lato ma anche faccia un po' da contraltare alle speculazioni ideologiche che sempre ci sono soprattutto nel nostro paese terzo aspetto importantissimo dell'osservatorio è che siamo tutti convinti che se non si arriva a una forma di virgolette pressione politica noi continueremo a piangere le morti quindi bisogna questo progetto ha come respiro e come punto diciamo di concretezza esattamente il coinvolgimento di quelli che hanno la responsabilità poi di fare le leggi sia in Italia sia in Europa su questo punto torno poi un momento alla fine allora questo è il primo percorso di impegno il secondo percorso è il centro di accoglienza che naturalmente lo dice la parola stessa è l'accoglienza a chi ha bisogno ma è poi la grande scommessa dell'integrazione su cui le nostre chiese lavorano ormai da tanto tempo più nello specifico la scommessa della mediazione culturale cioè noi accogliamo perché le persone vanno accolte sosteniamo le persone ad elaborare la loro ipotesi di futuro e non è detto che debba coincidere con la permanenza sul suolo italiano ma poi come dire vogliamo che la popolazione di Scicli la popolazione siciliana diciamo collabori e raggiunga un livello di consapevolezza insomma di che cosa significa accogliere integrare e via dicendo ultimissima cosa e poi mi taccio è quello che dicevo all'inizio sull'osservatorio il respiro internazionale di questo progetto ecumenico e internazionale essendo un progetto della federazione delle chiese va da sé che diciamo è ecumenico all'interno della componente protestante ma voglio dire che ci sono buoni rapporti anche con con la chiesa cattolica soprattutto localmente ma poi è il respiro internazionale noi ci rivolgiamo da subito alle nostre chiese sorelle in Europa perché insieme si possa fare si possa costruire una rete che quantomeno mobiliti come dire i parlamentari europei di fede protestante perché nel Parlamento di Strasburgo venga portata seriamente la questione di una nuova legislazione in materia di immigrazione siamo convintissimi che questo ormai non si parte più dal Parlamento nazionale bisogna partire dal Parlamento europeo lì è punto nodale e lì bisogna cercare di incidere quindi rispondendo alla domanda che cosa possono fare le nostre chiese beh c'è tutta una gamma di possibilità di impegni si va dalle cose più immediate e quotidiane fino diciamo al sostegno forte per quest'azione di ampio respiro ringrazio anche il pastore Aquilante e quindi un lavoro un progetto che ha uno sguardo che dal Mediterraneo investe poi col lavoro tutta l'Europa e questo credo che sia un elemento di grande interesse bene io lascerei ora la parola ai giornalisti e le giornaliste qui presenti che vogliono fare le loro domande e permettere quindi anche un approfondimento e poi se abbiamo ancora tempo una battuta finale ai due ospiti proprio un flash chi desidera intervenire e fare una domanda subito ai nostri due graditi ospiti venga qui si presenti presenti la propria testata ecco per rivolgere la domanda intanto allora che così si pensa a cosa poter domandare di sostanzioso e sostanziale per approfondire un po' l'analisi di quello che si è detto per quanto riguarda la presentazione un po' dei temi si è detto abbiamo iniziato con questo sguardo così internazionale con questo sguardo che riguarda le questioni della crisi nazionale e poi c'era c'è però anche uno sguardo sulle nostre chiese ecco allora magari visto che prima era stato detto proprio con un accenno qualcosa in più su allora sulle nostre chiese quasi un'anticipazione potremmo dire e intanto che magari vengono così anche le domande dai giornalisti e le giornaliste magari anche un qualcosa su questo messaggio che è arrivato possiamo dirlo questo messaggio che è stato una prima volta che insomma ci ha colpito in vari sensi questo un messaggio che abbiamo ricevuto da Papa Francesco sì ma su quello ci sarà un momento in cui rifletteremo sul tema dell'ecumenismo anticipo che noi diremo che in 5 minuti è cambiato il mondo come si suole nelle monarchie assolute siamo passati dal freddo al caldo poi approfondimenti successivi li vedremo al momento giusto quindi sì molte luci ma anche qualche ombra ed è bene che sia così perché non siamo la stessa chiesa questa non restringere l'orizzonte delle opinioni all'uno tra l'altro la chiave di lettura della nostra relazione di non restringere tutto all'uno ma di lasciare vivere le diverse interpretazioni e possibilità perché non possediamo la verità sulle chiese cosa volete il nostro sistema è un sistema nazionale i trasferimenti dei pastori e dei diaconi avvengono a livello nazionale noi abbiamo notato uno squilibrio dei buchi abbiamo parlato di una groviera made in Italy abbattuta poi c'è stato tutto l'intervento di quelli che se ne intendono spiegandosi che invece è l'emmental che i buchi ma essendo made in Italy eccetera lo diciamo anche con sofferenza perché ci sono situazioni specie nel sud Italia che già soffrono di per sé per le condizioni oggettive e poi che non hanno quell'appeal quell'attrazione che forse hanno alcune chiese del nord ed è un momento così di critica e di autocritica riflettere sullo spirito di servizio e adesso il dibattito uscendo dall'aula verteva su noi abbiamo posto un po' il dilemma o tu ti dai come dire con generosità senza sé senza ma anteponendo l'interesse dell'istituzione ai tuoi interessi personali che sono sacrosanti sono importanti oppure si scivola verso una concezione impiegatizia di diritti di dovere che pure ci sta per certi versi ma manca quel di più che è proprio l'avventura della fede e noi diciamo a volte ti chiede metti la tavola o il distretto di fare questa cosa tu la recepisci come una tegola sulla testa oh che disgrazia che mi è capitato nella mia vita cioè i bambini piccoli cioè mia moglie malata eccetera poi invece sulla distanza proprio perché non è frutto del tuo calcolo questa è la tesi che noi sostegniamo si rivela come una benedizione eccezioni sono sempre possibili però è un po' questo io penso a Tullio Vinai ho avuto il privilegio veramente di essere un po' alla scuola di Tullio Vinai e anche di suo fratello che era molto severo negli esami tra l'altro lo storico Valdo cioè questo lasciarsi andare cioè perché se manca questa dimensione della gratuità dell'avventura non irresponsabile ma proprio di lasciarsi prendere dalle situazioni che ti chiamano delle sfide che tu non avevi previsto se no veramente facciamo la cosettina calcolata l'equilibrio non mi sembra molto evangelica questa prospettiva grazie ancora pastore Platone una prospettiva appunto molto evangelica è stata anche evocato questo discorso del servizio fortemente evocato nel sermone d'apertura del sinodo 2014 bene se non ci sono sì c'è una domanda ma due domande sì Diego Meggelaro Radio Bequita Evangelica due domande per par condice una Platone una al pastore Aquilante ma al pastore Platone volevo chiedere come sono i rapporti adesso con la federazione delle comunità ebraiche dopo la la crisi nella striscia di Gaza se proseguono se continuano con critiche o come e invece al pastore Aquilante quale quale sono in concreto le cose che le comunità le chiese protestanti italiane possono fare nel progetto Mediterran Hope grazie allora guarda ti rispondo subito dove parliamo di Gaza sullo stato dei rapporti con il presidente Gattenia e il mondo ebraico bisogna sentire la tavola io non intrattengo personalmente anche se sono amico del rabbino di eccetera però non sono in grado di dare una valutazione complessa io dico sul tema per esempio Gaza gli odi le discriminazioni tra i popoli sono sempre ingiustificate ingiustificabili è difficile cercare il torto la ragione soprattutto se si parte dal presupposto di poter incolpare una sola delle parti in causa mentre sappiamo bene che la colpa non è mai totalmente imputabile a uno solo dei soggetti in campo certo i bambini morti la scuola distrutta migliaia di morti lasciano senza fiato però bisogna lavorare a degli spazi di dialogo di confronto insistere e continuare su una strada di confronto fermo restando che ci sono errori gravissimi da una parte e dall'altra ma o ci si fa la guerra fino in fondo oppure si inventano delle nuove situazioni ecco soltanto resistendo proponendo un terreno di pace nella giustizia pace nella verità mantenendo appunto il dialogo e evitando il più possibile per quanto possibile di disinnescare questa violenza che secondo me è anche integralista omicida che punta ecco poi sulla questione specifica è molto complesso e io non mi sento di schierarmi totalmente da una parte e dall'altra credo che tutti i popoli abbiano il diritto di vivere in pace e di collaborare non credo che il ricorso alle armi sia risolutivo però noi ci troviamo in questa situazione e in questa situazione noi continuiamo a proporre come dicevo per disinnescare questo spirito integralista fondamentalista letteralista che porta alla violenza contro le donne contro i bambini contro tutto aprire al dialogo e al confronto chi si chiude fa paura chi si chiude si arma per distruggerci chi vuole l'uno e non il due il tre il quattro fa venire i brividi durante la schiena io tra l'altro domenica parto per Tel Aviv avremo anche degli incontri diciamo adatti più si va in Palestina in Israele più la situazione è complicata però secondo me bisogna mantenere il dialogo e insistere su una prospettiva di giustizia nella verità grazie ancora allora la domanda al pastore invece Aquilante su Mediterraneo le chiese possono fare tante cose concrete come dicevo anche stamattina cioè si va dal dono di lenzuola o magliette per i bambini che sbarcano sul molo di Lampedusa a cose un po' più ampie e impegnative settimanalmente la nostra agenzia stampa e il NEV però anche Riforma e altri organi di stampa di comunicazione riportano le storie che i nostri due operatori a Lampedusa scrivono producono direi che la prima cosa che le chiese possono fare è prendere queste storie diffonderle dentro e fuori le chiese organizzare delle assemblee dei gruppi che discutano di queste cose e poi magari farci avere le loro reazioni le loro impressioni cioè interagire con questa narrativa che parte da Lampedusa seconda cosa che si può fare è costruire dei ponti gli ospiti che avremo nel centro di accoglienza verrà il momento in cui dovranno partire da Scicli dove andranno costruire delle stazioni intermedie per esempio noi abbiamo già l'assicurazione da parte dell'ospedale evangelico di Napoli è un bel punto intermedio diciamo una bella tappa intermedia e poi terza cosa concreta che le nostre chiese possono fare è impugnare seriamente questa proposta che c'è sul tavolo della costruzione del canale umanitario questo certo che riguarda il progetto Mediterranean Hope ma non soltanto quel progetto lì riguarda la consapevolezza delle nostre chiese spendersi per questa proposta concreta che c'è oggi non sarà la migliore proposta la proposta risolutiva del problema ma intanto tra quelle che circolano è sicuramente quella più efficace grazie ancora se ci sono altre domande per ulteriori approfondimenti mi sembra che l'argomento siano sostanziosi entrambi questo ecco quest'ultima osservazione quest'ultima cosa che è stata detta dal pastore Aquilante sull'impegnarsi per aprire un canale umanitario quindi appoggiare questa proposta è un'azione quindi potremmo definire la politica nel senso di polis quindi di un lavoro dei cittadini quindi i membri di chiesa le chiese come persone che si impegnano nella città attivamente e con una prospettiva europea ci sono ancora c'è ancora una domanda Laura Caffanini del settimanale diocesano di Parma Vita Nuova volevo chiedere al pastore Massimo Aquilante la vostra presenza la presenza della FCEI a Lampedusa quale possibilità quale occasione è stata anche di un lavoro insieme alla chiesa cattolica sull'isola nelle opere sociali che state portando avanti nel progetto Mediterran Hope grazie una bellissima opportunità devo dire forse più che a me la domanda andrebbe rivolta poi alle due persone che vivono quotidianamente a Lampedusa perché sono loro che nei primissimi giorni sono andati a cercare il parroco di Lampedusa e hanno cominciato a costruire questa relazione che innanzitutto è di amicizia poi è di collaborazione vera io voglio solo raccontare due cose la prima quando i nostri operatori hanno potuto entrare al molo c'era appena stato uno sbarco qualche settimana fa e beh questo è stato possibile perché il sacerdote il prete di Lampedusa ha aperto la strada diciamo così il secondo esempio di collaborazione concreta avverrà il 2 ottobre sapete che il 3 ottobre c'è la giornata di ricordo il 2 ottobre gestita da noi come federazione ma insieme al parroco di Lampedusa e al rappresentante di altre religioni avremo un momento interreligioso in cui faremo memoria e sarà pubblico aperto a tutta la cittadinanza queste cose non si possono fare se non ci sono buoni rapporti diciamo ma non formali se non c'è un po' di cuore condiviso ecco quindi direi che questa esperienza a Lampedusa è formidabile anche da questo punto di vista bene penso che il nostro tempo a disposizione è esaurito ringrazio molto i nostri ospiti i giornalisti e le giornaliste che sono state presenti e saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Beckwith e di Radio Voce della Speranza arrivederci a